L'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca spiega tutte le tappe effettuate dalla giunta d'Alfonso, dal suo insediamento ad oggi, per contrastare il famigerato articolo 38, lo sblocca Italia, che di fatto dà il via libera alle trivellazioni pietrolifere. Basta ricordare i due ricorsi presentati alla Corte Costituzionale verso l'articolo 38, lo sblocca Italia, dico due perché c'è stata una reiterazione del ricorso in occasione della modifica dell'articolo 38 stesso introdotta dall'ultima finanziaria, fino ad arrivare a degli atti deliberativi cogenti dal punto di vista amministrativo, con cui a seguito un'attività di condivisione che abbiamo svolto fin dall'inizio, dai primi di luglio scorso, con i cosiddetti portatori di interesse generale, abbiamo assunto proprio come giunta regionale per evidenziare quelle che erano le nostre preoccupazioni, formulando delle specifiche osservazioni alla procedura in corso presso il Ministero dell'Ambiente. Una risposta poi la manda a Forza Italia, dicendo che i 66 mesi di governo Chiodi non hanno prodotto nulla di concreto per la salvaguardia del territorio. In lunghi 66 mesi di governo regionale il centro-destra avrebbe potuto dire almeno una parola e formalizzarla debitamente, cose che non ha fatto, non solo per quanto riguarda il tema delle petrolizzazioni, ma anche per quanto attiene la Costituzione del Parco della Costa Teatina, la cui interconnessione con la deriva petrolifera poteva, per quanto ci riguarda, essere benefica.